Promuovere la dignità per salvare famiglie e imprenditori dall'incubo del racket. La consulta nazionale delle fondazioni anti-usura si è riunita a Bari per fare il punto sull'evoluzione del fenomeno e in occasione di un convegno ospitato nella sede di Acquedotto Pugliese discutere del ruolo dei media tra informazione e formazione. È un problema di consapevolezza. Molte persone non si rendono conto che facendo dei debiti, cioè impegnando il reddito futuro su delle rate eccetera, non c'è la capacità di questa previsione. Uno dice in fondo che sono 100 euro al mese per pagare un'auto o fare delle spese anche magari necessarie. Noi calcoliamo che quando il proprio reddito è impegnato in rate fino a oltre il 20% allora uno deve iniziare ad accendere dei campanelli d'allarme che lo mettano in guardia in una situazione che rischia di veramente diventare difficile da gestire. Le fondazioni hanno i loro fondi privati e statali con i quali possono sovvenire coloro che sono in difficoltà di credito legale con le proprie garanzie presso le banche convenzionate. Ma non basta più. Le 34 associazioni e fondazioni che convergono nella consulta nazionale San Giovanni Paolo II restituiscono un quadro del fenomeno in preoccupante crescita e sempre più complicato da far emergere. Sul nostro territorio questo fenomeno che dimensioni ha raggiunto? Che quadro ne esce? Il fenomeno purtroppo è in accrescimento nel senso che si sta allargando anche a livello di coinvolgimento di ceti sociali, prima fra tutti professionisti e commercianti che prima ne erano relativamente esenti e naturalmente sta incidendo in maniera ancora più dolorosa sulle famiglie che già prima trovavano difficoltà ma adesso sono al limite molte della sopravvivenza.